Grazie a voi, è un piacere essere qua davanti a tanti giovani perché i giovani rappresentano un elemento fondamentale di definizione di quella che sarà la città e la comunità del futuro e in questa città e comunità del futuro non può non avere un ruolo e uno spazio fondamentale noi crediamo la cultura. Si è parlato molto con i relatori che mi hanno anticipato dell'agenda 2030, degli obiettivi dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, è uscita proprio di recente una pubblicazione molto interessante dell'UNESCO che cerca di misurare quanto la cultura in realtà può concorrere nell'esercizio quotidiano a raggiungere questi obiettivi. Ed allora è molto interessante che su 17 obiettivi la cultura possa concorrere a raggiungerne 12, perché in realtà tanto della vita che noi viviamo ogni giorno, per lo meno di quella che vivevamo soprattutto in una dimensione pre-Covid, ma che tutti insomma quando ci immaginiamo questa comunità del futuro consideriamo superata e consideriamo soprattutto riportare al centro le possibilità di fruizione, di esperienze, di dinamiche. La cultura è pervasiva rispetto alla nostra vita, ma è nello stesso tempo quell'abilitatore fondamentale che ci permette come comunità di accrescere, diffondere e fare nostri anche proprio tutti quei valori di cui i miei colleghi di prima hanno parlato. È evidente che il volontariato, la cultura della prossimità, l'idea di riportare una visione, una percezione del corpo come ento centrale della relazione con l'altro, sono tutti temi che hanno a che fare con la cultura e che senza cultura non riescono ad alimentarsi e a svilupparsi. Quindi in questa comunità del futuro noi come Unipol crediamo che la cultura sia una gamba fondamentale insieme al lavoro, insieme alla tutela dell'ambiente, insieme alla protezione dei deboli, all'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze, per una comunità ideale. Una cultura che è una cultura quindi che di per sé stessa è creazione di benessere, è abilitazione delle persone, non è solo la cultura quella istituzionale, quella che vi abituate a frequentare nella scuola, non è solo la cultura dei teatri, dei cinema, dei libri, ma è anche la cultura dell'improvvisazione, la cultura della conoscenza dell'altro, quindi abbiamo anche parlato di disuguaglianze, di diversità, di inclusione. Allora conoscere le diversità, conoscere le culture è un elemento fondamentale proprio di legame sociale. E soprattutto, e vado verso la conclusione, noi che cosa abbiamo visto in questi anni non solo sostenendo e promuovendo per l'Italia il progetto Culturability che supporta la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di centri sociali e culturali, riutilizzando aree immobiliari che non siano in questo momento impiegate, ma anche con tante altre esperienze alle quali noi siamo a fianco in ambito culturale, una cosa che abbiamo imparato molto importante è che la cultura acquisisce ancora più valore ed è ancora più significativa quando è capace di includere, cioè di avvicinare, di parlare anche con coloro che non necessariamente stanno cercando un'esperienza culturale, in autonomia forse non avrebbero gli strumenti per accedere a un'ordinaria esperienza culturale, ma si scontrano con la cultura e scontrandosi con la cultura ne colgono gli effetti straordinari e di, come dire, automatizzazione nel desiderio di nuova cultura, nella costruzione di nuova cultura e quindi diventano comunità culturale. Questo l'abbiamo visto in diversi progetti, nelle aree, come dire, anche più lontane e dagli appennini sperduti del centro Italia, alle periferie più tristi delle nostre città metropolitane, ma dove la persona e la capacità di ingaggiare rispetto a esperienze culturali adeguate al contesto ha fatto il successo e la differenza di queste realtà. E adesso sta a voi immaginare la cultura che caratterizzerà la comunità di domani.